Ho scoperto di avere la leucemia ed è stato come essere travolta da un'onda improvvisa. La vita è ciò che facciamo per noi mentre lei fa qualcosa di noi. E sott'acqua non puoi chiederti perché stai annegando, ma come tirarti fuori. Se interrompo la gravidanza a sprofondo, non farò la chemia o troveremo altre soluzioni e sarà l'amore per mio figlio a darmi la forza per salire in superficie. Quell'amore sarà ogni giorno più forte perché verrà sostenuto dalle persone che sceglierebbero come ho scelto io. Ciao a tutti amici del lettore medio, io sono Manuela e oggi vi parlo di questo libro. Anna Stacu e morti di Daniele Scalese per Pidgin Editore. Pidgin Editore è una piccola casa editrice nata nel 2017, una piccola casa editrice napoletana che ha deciso di affrontare una letteratura più audace e sfrontata e quindi i suoi libri sono molto molto particolari. Io sto recuperando man mano tutta la sua pubblicazione perché devo dire che mi piace molto. Oggi vi parlo di questo libro scritto da Daniele Scalese, un ragazzo classe 1988 di Taranto che ha pubblicato già altri romanzi e anche racconti pubblicati su varie riviste. Anna Stacu e morti narra le vicende di una coppia, Anna e Renzo, una coppia in crisi come tante che però decide di affrontare questa crisi generando un figlio sperando che la nascita di questo figlio possa appianare i loro problemi. decidendo di avere questo figlio purtroppo vengono a scoprire che Anna ha una grave malattia, la leucemia e quindi lei adesso è stato un bivio, deve decidere se portare avanti la gravidanza e non curarsi oppure interrompere la gravidanza e curare la leucemia. Anna decide di non curarsi e di portare avanti la gravidanza. Questa decisione comporterà ancora più crisi tra i due anche nella maniera di affrontare questa cosa perché mentre Enzo decide di quasi non pensare alla malattia della compagna e di pensare ad altro e quindi una delle sue decisioni per esempio è quella di prendere il suo posto di lavoro Anna lavora in un obitorio, si occupa di morti, di cadaveri e lui, visto che lei è impossibile da lavorare prende il suo posto all'obitorio. Invece Anna ha un altro modo di affrontare questa sua scelta e quindi di raccontarla. Lei apre un blog dove racconta tutte le sue giornate, i suoi problemi di salute e poi partecipa anche a una trasmissione dove racconta man mano l'evolversi della sua malattia e l'evolversi della sua gravidanza. Questa cosa non piace ad Enzo, Enzo non è d'accordo su questa cosa. Quello che c'è in questo libro, che è un libro breve, sono 155 pagine con capitoli molto brevi, molto molto brevi capitoli con una prosa molto asciutta ma con delle frasi così forti e potenti che rimangono nei pensieri e quasi scavano nei pensieri quando leggete questo libro. Però in questo libro è presente molto forte la dicotomia tra amore e morte. C'è due potenze che coesistono e che quindi decidono se una vita può essere creata o distrutta. La morte è presente sempre nel quotidiano, soprattutto in quella di Anna perché Anna, come dicevo, lavorava in un obitorio quindi aveva a che fare tutti i giorni con la morte però per assurdo anche prima che Enzo poi lavorasse nell'obitorio anche per Enzo era una costante la morte perché tramite flashback del racconto perché il racconto viene narrato in prima persona da Enzo noi verremo a sapere del passato di Enzo e quindi del suo rapporto con i genitori e delle sue problematiche nel rapporto con i genitori anche a causa della morte prematura della sorella, di Eva. Come dicevo i capitoli sono molto brevi il libro si lascia leggere molto facilmente è molto scorrevole anzi tiene incollate alle pagine perché vogliamo sapere cosa succede a questa coppia vogliamo sapere cosa succede ad Anna, al suo bambino e ripeto, tramite salti temporali noi riusciamo a sapere tanto di questa coppia io volevo leggervi un altro brano per farvi capire un po' la tipologia di scrittura di Daniele Scalese crediamo di voler essere amati ma noi vogliamo essere capiti perdonati e liberati tutti i corpi dell'obitorio ce ne erano riusciti ed Emilia aveva ragione alla morte ci si abitua iniziavo a metabolizzare il momento del riconoscimento imparavo a prevedere la risposta dei altri alla morte intuivo le relazioni le reazioni di un individuo davanti alla visione del corpo di un figlio di un fratello di un genitore quanto si sarebbe straziato o trattenuto quante volte avrebbe pronunciato il nome di chi aveva perduto riuscivo a schematizzare il dolore vi consiglio questo libro davvero Anna Stacomorti Piggino Editore Daniele Scalese buona lettura a tutti ciao a presto